Se dovessi trovarti a fare un unboxing di arte, guarda quelli del Broschi e fai l'esatto opposto così te sentirai una persona intelligente. Oggi invece il Broschi si trova a dover fare il primo unboxing, credo, al mondo di arte digitale. Non ho un'idea di come fare. Partiamo quindi a contrario, vediamo prima il nome dell'artista perché è la prima cosa che so. Lui si chiama GMXXCulture o GM20, non ne ho un'idea. Mi ha inviato un link e ora lo clicchiamo. Mancherà tutta la fase di scarta a scarta? La sostituiamo quindi con... Ok, 3, 2, 1... Boom! Paura, paura. Non appare niente, appare... Cos'è? 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 Come al solito non leggo niente ma faccio accetta. Accetto. Oh, un castello. Aiuto. C'è un altro accetta, io accetto. Mi dice che è stato WeTransferizzato. Clicchiamo. Boom! Paura, paura, paura. Chiudo. Ecco i JPEG. Ci sono cinque file, partiamo dal primo. Boom! Paura? Bomba! No, vabbè, spacca. Andiamo con il secondo. Boom! Oh, vabbè, bellissimo. Vai col terzo. Boom! Vai col terzo. Boom! Quarto. Boom! Colori acidissimi. Un broski fuori di testa. Voi sicuramente da lì non lo vedete, ma sembra un effetto carta di un flyer di un rave. Ora al broski è già venuto un'idea in testa, ma devo parlarne prima con l'artista. Se l'artista mi dà il consenso verrà una bomba. Ma ho bisogno del tuo aiuto e ti chiedo qual è il design che preferisci. Numero uno, numero due, tre, quattro, cinque. E se l'artista mi dà il consenso vi garantisco che nel 2022 faremo un progetto completamente a caso, che sarà una bomba. Bella dal broski. Ciao.